Dopo infinite polemiche, la nuova l'Italia ha finalmente spiccato il volo. Alle 6.30 di questa mattina, infatti, è partito il primo aereo da Palermo con destinazione Fiumicino. A bordo 159 passeggeri, tra cui numerosi politici, atterrati nella capitale con 20 minuti di ritardo. Un avvio non proprio ben augurante, dunque, per la nuova compagnia di bandiera italiana, la cui partenza non mette tuttavia fine allo scontro tra le forze politiche, dopo l'accordo con Air France KLM, cui va il 25% del pacchetto azionario. L'Italia si è davvero consumata una farsa. All'Italia finisce comunque ad Air France, i debiti finiscono agli italiani e non si è nemmeno risolto il problema degli aeroporti di Malpensa e di Venezia che saranno ridotti a aeroporti di Serie C con un danno per tutta l'economia del nord del paese. Mi pare la soluzione Air France, si affermi, compagnia maggioranza italiana, evitato il disastro del fallimento che avrebbe fatto morire anche gli aeroporti di Malpensa e Fiumicino. Oggi si troveranno soluzioni anche per gli scali aeroportuali. Lufthansa ha dichiarato di voler prendere contatto con i vertici di CAE nelle prossime ore e sicuramente bisognerà tenerne conto. Comunque Malpensa oggi è in grado di camminare con le proprie gambe grazie all'emendamento presentato dalla Lega che consente di attrarre nuovi vettori e nuove destinazioni internazionali. Intanto continuano i disagi per i passeggeri negli aeroporti di Malpensa e Fiumicino. Numerosi voli cancellati e le proteste del personale di terra a causa del mancato rinnovo del contratto per chiedere la liberalizzazione degli slot. Nello Scalovaresino i dipendenti della SEA hanno sfilato tra passeggeri con striscioni e bandiere mentre a Roma una trentina di operatori della cooperativa SAR stazionava nei pressi del varco equipaggi cercando di rallentare il passaggio dei mezzi. Mostra invece entusiasmo il presidente di Alitalia Roberto Colaninno parlando di successo della nuova compagnia di bandiera al termine di un'operazione difficile realizzata però in tempi record.